Allora, si è riscontrato che quando parliamo di banchina non sempre le persone hanno un'idea precisa di dove si trovi. Al porto? No. Dove trovi le banchine? Ah, al barco. Si siedono le persone per dare del pane ai bigioni. No. La banchina è quella zona esterna alla carreggiata situata tra la linea continua di margine e il bordo della stessa. E fa parte della strada. Quindi poniamo il caso che tu stia passeggiando lungo uno dei marciapiedi della tua città. Guardi in basso. Cosa vedi? Cacche di cane. No, oltre il marciapiede c'è uno spazio situato oltre il bordo dello stesso e la linea bianca continua dipinta sulla strada che... Piena di cacche di cane, anche quella. È la banchina. La banchina che è esclusivamente riservata ai pedoni, mentre nelle strisce oblique chi ci va? La regina e gli alfieri.